Buonasera a tutti, finalmente a stessa a casa mia, dove per la prima volta non ho la necessità di dovermi presentare perché la cosa più bella è che con ognuna delle persone che mi stanno venendo a dare il loro supporto e il loro incoraggiamento posso raccontare pezzi della mia vita vissuti con loro, questo per dire che io sono figlia di questo territorio e proprio per questo ho deciso di candidarmi al Consiglio della Regione Campania per contribuire alla rinascita del nostro territorio e per riscrivere la storia del nostro territorio un territorio che purtroppo è stato distrutto da una politica sbagliata del centro-sinistra oggi abbiamo la possibilità di cambiare, oggi abbiamo la possibilità di ridare la dignità al nostro territorio votando Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania Forza Caserta, Forza Italia, viva la libertà! Tutti dicono a Sessa di sei candidata come prima volta in un momento storico difficile perché hai due candidati del centro-sinistra che comunque chi in un modo, chi in un altro governa la Regione Campania e il Comune qui a Sessa Oduca Vi dirò, tutti dicono che è una missione impossibile, io vi dico di no perché per me è la prima volta e quindi ancora devo dimostrare ci metterò tutta la mia passione e tutta la mia energia per contribuire al miglioramento del nostro territorio il centro-sinistra ha avuto modo di dimostrare facendo cosa? Non migliorando il nostro territorio anzi peggiorando la situazione del nostro territorio, della provincia di Caserta e della Regione Campania Oggi possiamo scegliere, votiamo Caldoro Presidente In queste settimane stiamo girando tutta la provincia di Caserta e stiamo cercando di capire soprattutto se questi pseudosondaggi che sono circolate nelle prime settimane fossero veri o meno e devo essere sincero, io giorno dopo giorno inizio a sentire che l'aria è cambiata che questo voto che tutti dicono verso il centro-sinistra non c'è e che anzi c'è una grande voglia di cambiamento e quindi di far ritornare il centro-destra al governo della Regione Campania La media decide di metterci la faccia per chi vuole bene al proprio territorio decide di fare un'esperienza, peraltro gliel'abbiamo chiesto all'ultimo momento gliel'abbiamo chiesto qualche giorno prima che si presentassero le liste il Presidente della provincia di Madiocchi ha chiesto questo sacrificio ad Ameda già da prima dell'attuamento, per esempio la verità, anche perché siamo andati molto nel segno del rinnovamento perché è giusto che una lista che ha l'esperienza dicevano gli amici prima, io sono consigliata regionale da un po' di anni quindi un po' di esperienza in più ma era giusto che il movimento si rinnovasse e ci fossero anche facce nuove peraltro Amelia, devo dire la verità, sta mostrando in questa competizione elettorale di avere non solo voglia ma anche capacità di esporre le problematiche e di stare sui conti non mi nascondo che spesso risento, soprattutto in questo ultimo periodo, i miei ex compagni di classe molti dei quali non sono più qui perché chiaramente non hanno trovato la giusta collocazione in un territorio il nostro territorio, un territorio che prima era veramente il fiore all'occhiello della campagna un territorio che potrebbe diventare il fiore all'occhiello della campagna un territorio che ha una costiera bellissima, il turismo, storia, arte, cultura abbiamo un uomo che potrebbe essere davvero uno dei più belli di tutta la campagna abbiamo la terracotta, abbiamo i prodotti dell'agricoltura ma purtroppo è un territorio che non è più valorizzato, anzi è un territorio che sta morendo ma ho deciso di candidarmi anche per un altro motivo perché sempre vivendo questo territorio purtroppo mi è sempre più chiara l'idea che le nuove generazioni stanno crescendo con un concetto di politica che non è la vera politica oggi i ragazzi pensano che la politica sia un moto di scambio pensano che la politica sia il ricatto pensano che la politica sia una strana magia di clientelismo ma non è questa la politica alle nuove generazioni soprattutto andrebbe trasmesso che la politica è democrazia che la vera politica è la buona politica è la politica dell'agire, è la politica del fare, è la politica delle competenze e purtroppo l'incendio di ministra sia a livello locale ma soprattutto a livello regionale sta distruggendo la nostra regione sta distruggendo la provincia di Caserta ma soprattutto sta distruggendo il nostro territorio sta distruggendo Sessa però abbiamo l'opportunità di ridare dignità al nostro territorio dignità alla provincia di Caserta e dignità alla regione Campania veramente mancano gli ultimi giorni della campagna elettorale se ognuno di voi spendesse 5 minuti nella propria giornata a parlare con l'amica, a parlare con il vicino, con la parrucchiera e spiegare il perché soprattutto noi casertani non dobbiamo votare De Luca veramente il 20 e 21 settembre potremmo urlare in coro la libertà della regione Campania la libertà del nostro territorio e finalmente riprenderci tutti insieme la nostra unità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti